Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione Rassegna, il primo appuntamento live con le notizie sulla nostra rete. Andiamo subito a vedere però le immagini che arrivano dal nostro territorio, immagini come sempre molto belle e suggestive. Oggi si annuncia una bella giornata di sole, siamo con la prima immagine dalla webcam di Ravascletto, andiamo poi a Ragonia sul lago, ecco qui vedete all'orizzonte il cielo è pulito, limpido, ci spostiamo a Trieste, andiamo a vedere in riva al mare com'è la situazione, anche in questo caso il sole sta sorgendo, qui siamo a Grado, il sole sta sorgendo e si vede all'orizzonte il cielo pulito, una giornata dunque, un weekend che si annuncia sicuramente di bel tempo, poi andremo a farcelo confermare da Trebbimeteo ed eccoci qui invece con l'immagine da Trieste. Andiamo con Trebbimeteo a scoprire le previsioni per la giornata di oggi sulla nostra regione. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebbimeteo per la giornata di venerdì che a tutti gli effetti sarà davvero ancora primaverile nel Friuli Venezia Giulia, tanto sole in tutta la regione, magari spostandosi verso le zone costiere adriatico un po' di foschie inizio giornata, per il resto nulla da segnalare, guardate temperature massime che si avvicinano ai 20 gradi. Entriamo più nel dettaglio, Udine e Pordenone non solo temperature molto miti di giorno ma anche di notte non farà per niente freddo, minime di gran lunga al di sopra dello zero e soprattutto tanto tanto sole. Anche tra Gorizia e Trieste situazione tranquilla, davvero primaverile, temperature alte per il periodo, sole un po' dappertutto e vi dirò anche nel weekend grandi cose non capiteranno però domenica arriva un po' di vento più frizzantino. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebbimeteo. Sfogliamo le pagine virtuali, le home page delle agenzie e dei siti di informazione per vedere le ultimissime della mattina, quindi le primissime notizie di oggi. Qui siamo su Lanza, le aziende inadempienti non devono essere scusate, questo è il messaggio che passa da parte di Draghi all'Unione Europea per quanto riguarda le aziende che producono i vaccini e che risultano inadempienti e stanno mettendo in difficoltà il piano vaccinale non solo dell'Italia ma dell'Europa intera, qualche nazione riuscita da sola con il cosiddetto fai da te ad attenuare il problema ma la situazione è grave, non si riesce a vaccinare come prevedono i piani nazionali. Eccola qui la dichiarazione di Draghi che ha partecipato ovviamente in forma virtuale all'incontro al summit europeo con i colleghi europei e con la Presidente della Commissione Europea per affrontare questo problema. Il summit intesa per il via libera ai passaporti vaccinali vanno fatti entro tre mesi quindi non ci sarà l'obbligo del vaccino, non si spinge per l'obbligo ma per il passaporto dei vaccinati e quindi chi avrà il passaporto potrà avere il via libera evidentemente ad alcuni servizi. La Presidente von der Leyen dice che l'obiettivo resta quello di immunizzare il 70% della popolazione adulta entro fine estate è chiaro però che il passaporto vaccinale si inserisce poi nel discorso della disponibilità delle dosi perché è vero che si può dire ok vaccinati vi diamo il passaporto e potete andare in vacanza, sto facendo un esempio ma se mancano le dosi chi non riesce ad accedere alla vaccinazione perché manca la dose e qui dovrà aspettare mesi e mesi e mesi rimane comunque bloccato pur essendo un individuo, un cittadino che vuole aderire alla vaccinazione. Quindi va risolto prima il problema della disponibilità delle dosi. L'ultima ora di questa mattina parla invece di un attacco aereo degli Stati Uniti contro un gruppo filo iraniano in Siria ed è il primo intervento militare dell'amministrazione Biden. Gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco aereo, il primo da quando si è insediato Biden contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana in Siria, dopo tre separati attacchi missilistici contro le forze americane in Iraq, lo riferiscono i media degli Stati Uniti citando fonti del Pentagono. Lo strike ordinato dal Presidente era volto a danneggiare le capacità della milizia di condurre altri attacchi in futuro, secondo quanto riportato dall'osservatorio siriano per i diritti dell'uomo ci sarebbero almeno 17 vittime, dunque battesimo di guerra, così lo possiamo tristemente definire per Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti qui l'immagine dei luoghi dove sono caduti gli ordigni spediti dagli aerei inviati diciamo così dagli aerei di Joe Biden in Siria. Vediamo altri siti di informazione, andiamo a scorrere anche l'home page del sito del TG CON24 che in ultima ora parla invece della multa alla Boeing da parte della Federal Aviation statunitense, 6,6 milioni per carenze di sicurezza e certamente questo non è un dato assicurante per chi viaggia e in particolare per chi viaggia con compagnie americane per chi viaggia all'interno degli Stati Uniti. Questa è un'ultima ora delle ore 7, l'apertura del sito tuttavia dedicata al summit europeo a cui ha partecipato il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi e alla dichiarazione della von der Leyen che ha detto entro la fine dell'estate che il 70% degli europei sarà vaccinato, io andrei un po' cauto sulla certezza su sarà vaccinato, potrebbe essere vaccinato, sarebbe forse più corretto. L'Italia sempre più rossa, arancione scuro, tutte le città che cambiano colore, c'è da dire dopo vedremo anche con i giornali e come è la situazione, il Friuli Venezia Giulia non sembra essere a rischio di passare da giallo ad arancione, qualche rischio lo corre il Veneto che ha un RT che sta sfiorando l'1, sappiamo che con l'1 si passa in arancione, il Veneto sarebbe intorno allo 0,95, va meglio al Friuli Venezia Giulia dunque che non rischia, almeno secondo gli ultimi che arrivano da Roma, di passare da giallo ad arancione e qui diamo uno sguardo anche al nostro sito, sempre più ricco, al sito di Udinese TV, come vedete l'apertura è dedicata agli ultimi dati Covid di ieri e ad una valutazione, un'analisi dei dati a disposizione con la dichiarazione del Vice Presidente della Regione Riccardi che parla della variante inglese che è penetrata nel nostro territorio al 26% rispetto ai test al sequenziamento che è stato fatto sugli ultimi campioni positivi raccolti nella nostra regione, una variante che preoccupa, ma ne abbiamo parlato anche negli speciali del Tg di mercoledì sera, una variante quella inglese che è sì più contagiosa ma non è più dannosa riguardo i danni che provoca l'organismo, è chiaro però che essendoci un contagio maggiore in prospettiva ci potrebbero essere più persone che faranno ricorso alle cure degli ospedali e dunque gli ospedali potrebbero andare in sofferenza, sono già in sofferenza e questo è il dato, la sofferenza negli ospedali che potrebbe mettere a rischio non questa settimana ma nelle prossime la fascia gialla in cui il Friuli Venezia Giulia attualmente si trova che permette comunque di condurre una vita più o meno normale, in quella normalità che ormai siamo abituati a vivere in questa condizione, passare ad arancione significherebbe richiudere di nuovo alcune attività, un'altra ammazzata sull'economia del territorio, ma questo non vale soltanto per il Friuli Venezia Giulia ma per tutto il Paese. Andiamo a chiudere la rassegna web con uno sguardo anche al dato delle vaccinazioni, l'aggiornamento che arriva dal sito del Ministero della Salute, qui siamo sul report generale che parla di 3.950.725 somministrazioni, che vuol dire che tra chi ha ricevuto la prima e chi ha ricevuto la prima e la seconda, sono 3.950.725 le fiale inoculate, le dosi inoculate, ma il totale dei vaccinati per questo numero di quasi 4 milioni raggiunge appena 1.362.859, sono queste le persone da considerare vaccinate completamente, cioè che hanno ricevuto le due dosi, si sta aprendo un dibattito a livello scientifico che potrà dare una mano a proseguire più rapidamente nella vaccinazione, il dibattito scientifico è quello di evitare intanto, lo vedremo anche sui giornali, anzi andiamo subito a vedere i giornali così ci arriviamo poi a questo discorso che viene fatto, parte dal Veneto per esempio dicono in Veneto evitiamo di fare la prima dose a chi si è ammalato ed è guarito e dunque agli anticorpi naturalmente faremo più avanti la dose del vaccino a queste persone così possiamo liberare dosi per chi invece non si è ammalato e ha bisogno di essere immunizzato, in questo modo si guadagnerebbero circa 400 mila dosi da poter utilizzare per andare avanti nella campagna di vaccinazione su tutta la popolazione. In Regno Unito hanno già iniziato a fare questo discorso e pare che abbiano avuto dei dati confortanti anche da un altro studio, da altri dati scientifici, cioè che dopo la prima dose del vaccino della Pfizer senza arrivare al richiamo, alla seconda dose, già la prima dose copre circa il 95%, funziona circa al 95%, questo è un altro dato che se verrà confermato permetterà di risparmiare dosi e di andare avanti con la vaccinazione a tappeto, almeno con la prima dose per più persone possibile e poi andare con i richiami in maniera più tranquilla, con maggiore calma nel tempo, visto che purtroppo la Pfizer ma anche Moderna, AstraZeneca sono tutte in difficoltà nel garantire le fiale che sono state promesse, peraltro ci sono dei contratti in particolare all'Unione Europea. I paesi singolarmente qualcosina lo hanno fatto, per esempio in Europa la Germania sicuramente sta meglio degli altri, fuori dall'Europa intesa l'Unione Europea il Regno Unito è arrivato ad oltre 17 milioni di sudditi della regina vaccinati che hanno ricevuto la dose del vaccino, per non parlare di Israele che ha quasi raggiunto l'immunità di gregge in tempistiche molto molto rapide, sono paesi, l'Israele in particolare che ha meno di 10 milioni di abitanti, quindi non paragonabile al numero di abitanti del nostro paese, però con la loro organizzazione sono riusciti sicuramente a procurarsi i vaccini, li hanno pagati di più e hanno immunizzato una buona parte della popolazione. Ma andiamo adesso sui giornali, vediamo il Corriere della Sera, pochi vaccini, ecco si parla sul Corriere della Sera anche di questo problema, l'attacco di Draghi, questo è quello che è avvenuto nel Summit Europeo, nessuna scusa per le aziende inadempienti, serve accelerare balzo dei contagi in Lombardia, ma non soltanto in Lombardia, il balzo dei contagi c'è stato un po' dappertutto, anche in Veneto, dove però i dati della pressione sugli ospedali sono incoraggianti, nel senso che i ricoveri calano o comunque sono sotto controllo. Nuovi addi nel 5 Stelle, il movimento è nel caos, arriva Conte, si parla di un ingresso ufficiale dell'ex Premier Giuseppe Conte, che è sempre stato il riferimento dei 5 Stelle, sono loro che hanno promosso la figura di Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio nel primo governo e poi anche nel secondo. Dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Repubblica, Draghi, l'Unione Europea, Cambi Passo, una dose di vaccino a tutti, il Premier chiede una diversa strategia nella produzione e somministrazione delle fiale, ma la Commissione frena nessun bando all'export, accordo solo sul lancio del certificato verde, che sarebbe il passaporto vaccinale che consentirà i viaggi agli immunizzati e dunque chi è immunizzato salterà tutte le barriere che riguardano per esempio nel nostro paese l'impossibilità di muoversi tra regioni anche se regioni gialle, ecco quello che avviene per esempio tra la nostra regione e il Veneto non ci si può spostare anche se entrambe sono gialle da una regione all'altra se non per i motivi di comprovata necessità. In Italia 20 mila nuovi contagi, altre tre regioni in arancione, la situazione dunque nel nostro paese sta cambiando e purtroppo in peggio per quanto riguarda i contagi e alcuni parametri, il tutto si attribuisce alla variante inglese, alle altre varianti che si stanno facendo spazio anche nel nostro paese e che preoccupano più per la maggiore contagiosità del virus che per i danni diversi, i danni sono gli stessi, se ci si becca il virus e poi il Covid-19 i danni e i rischi sono uguali a quelli del virus originale, chiamiamolo così. Ma Draghi lo sa chi ha nominato, sotto mostri scrive il Fatto Quotidiano parlando dei sottosegretari i vice impresentabili e incompetenti, ecco questa la lista dei sottosegretari che sono sotto accusa da parte del Fatto Quotidiano, altre che meritocrazia, i conflitti di interesse di Sisto, Moles, Bergamini, Gava, Morelli e l'inadeguatezza di Borgonzoni, Sasso e compagni. Gava è la sottosegretaria della nostra regione, del partito della Lega che è stata già sottosegretaria e è tornata di nuovo a far parte del governo con questo ruolo di vice ministro. Andiamo avanti con il ruolo di sottosegretariato, andiamo avanti e andiamo a vedere la stampa. Draghi si al passaporto vaccinale, oggi sei regioni verso l'arancione, Salvini basta paure, il partito democratico così porta il paese fuori strada. Quindi c'è già un duello abbastanza acceso all'interno di questa nuova strana maggioranza che sostiene Draghi e che vede il partito democratico in Lega all'interno dello stesso gruppo di governo a sostenere il presidente del Consiglio Draghi. Le interviste, la Banca Mondiale a rischio, le dosi per i paesi poveri, e questo è un altro problema perché si sta facendo la guerra, tra virgolette, dei vaccini tra i paesi industrializzati, paesi ricchi, nonostante tutto, e nonostante debiti pubblici spaventosi come il nostro paese, non si vuol dire che il nostro sia un paese povero, è un paese ricco, a differenza di altri paesi che sono messi davvero molto male e in questo caso c'è il rischio che possano non arrivare dosi di vaccino a queste popolazioni, alla popolazione di questi paesi. Il Fondo Monetario poi parla invece di Draghi e dice, bene Super Mario, ma tagliate il debito. E beh, tagliate il debito, ovviamente in questo momento è un po' difficile ipotizzare come, arriveranno i fondi della Unione Europea, si vedrà come si procederà poi per ridurre il rapporto debito-PIL che sta raggiungendo percentuali stratosferiche. Qui siamo sul Gazzettino, un solo vaccino ai contagiati, il Gazzettino ne fa l'apertura di questa richiesta, di questa iniziativa presa dal Veneto, da Zaia, che punta, ovviamente devono esserci dati scientifici che confermano quello che si può o non si può fare. Un solo vaccino ai contagiati, il Governo fa la sua proposta, fa sua la proposta del Veneto, dose unica a chi è stato positivo ed è guarito. Quindi una sola dose basta e poi, visto che ci sono già gli anticorpi in circolo che sono stati generati dalla malattia, dalla contrazione del virus, non serve fare due dosi. Zaia sostiene che così si risparmiano 320 mila sieri. Valutiamo questa soluzione per tutti. È chiaro che se questa soluzione va bene per il Veneto, va bene per tutti. Non è che i cittadini del Veneto siano geneticamente diversi dagli altri. Qui siamo invece sulla foto ai funerali dell'ambasciatore Attanasio, che è stato ucciso in Africa, la vedova dell'ambasciatore Attanasio con la figlia, qui un tenero abbraccio, qualcuno ha tradito il mio Luca. Senatrice, assessore, vice sindaco a tutto il contributo Covid, un altro scandalo per quanto riguarda i contributi Covid che alcuni politici hanno chiesto e hanno anche ottenuto. Treviso, l'onorevole Salviniana, Fregolent e due colleghi ottengono il bonus comunale. Vedremo poi all'interno perché la polemica sta divampando, anche perché l'onorevole ha detto il bonus che ho avuto lo dato in beneficenza. Qualcuno ha risposto, la beneficenza si fa con i propri soldi, non con quelli che arrivano dal bonus dello Stato. E mi pare anche corretto che abbia sottolineato questo dato. Andiamo sul manifesto, il quotidiano comunista. Il titolo lo vedete, Onda su Onda di Maio apre il nuovo corso liberale. Questi sono i due titoli sul giornale che stiamo leggendo e vi stiamo proponendo la prima pagina. L'evoluzione dei 5 stedi in attesa della leadership di Giuseppe Conte, sempre più probabile. Poi Zingaretti, senza unità al PD implode, ultima chiamata ai critici interni. E quindi Onda su Onda si parla della terza ondata. La curva sale in otto regioni terapie intensive oltre la soglia critica. Bologna in arancione scuro, da Lombardia, epicentro della terza ondata. L'ISS, variante inglese più contagiosa, del 37%, ma per Salvini il problema è salvare la Pasqua. Sconto nella maggioranza. L'Unione Europea litiga con le aziende dei vaccini, ma la proprietà intellettuale non si tocca. La proprietà intellettuale sarebbe ovviamente il brevetto di chi ha messo a punto i vaccini. Su licenza può cedere ad altri, sicuramente si spingerà per questo, per avviare una produzione in altri paesi, tra cui anche l'Italia. Ma ci vorrà qualche mese, abbiamo letto da qualche parte, sei mesi. Oggi vedremo anche sui giornali, che andiamo a leggere, di mesi ce ne vogliono almeno tre. E quindi ci vuole un po' di tempo per avviare una produzione e quindi bisogna fare in fretta e procedere speditamente. Dunque, guardare negli occhi il reset di Draghi, questo è il titolo del foglio in colore rosso. Il Premier ha disegnato la politica mettendo a nudo i limiti dei leader, non c'è un suo partito, esiste una scelta dei partiti. Considerare la nuova stagione è una parentesi da chiudere o un'occasione per diventare grandi riflessioni. Dunque, dopo i primi giorni di governo Draghi, Emma Kline è uscita dal territorio del diavolo. Weinstein è con 12 storie, ha inventato un genere nuovo, il racconto con dibattito. Si parla dello scrittore italiano di fama internazionale che commentò Le ragazze. Fu il primo romanzo di Emma Kline, è uscito nel 2016, dopo l'invidioso scandaletto sull'anticipo che diceva 2 milioni di dollari, e chi 5, dicendo che gli sembrava scritto da 10 studenti. L'iscrittura sottoposta a una ventina di editing, scrive Maria Rosa Mancuso. E questo è il titolo in colore blu che troviamo sotto la testata del foglio che lasciamo. Passando alla verità, Arcuri compra occhi chiusi, le carte contro il commissario. Nell'ordinanza gli indagati certi di fare affari grazie al rapporto diretto. Il verbale di Bonaretti, ho visto l'incontro a maggio tra Benotti e il capo di Invitalia. Si conoscono da anni, avevano già discusso di Alitalia. La Lombardia intanto accusa, ci hanno mandato sidinge con aghi sbagliati per i sieri. E poi il report degli Stati Uniti su Bin Salman, tiene sulle spine Renzi. Vedete qui c'è la foto di Renzi, c'è la posizione di questa immagine di Matteo Renzi. Messo in questo momento alle strette, imbarazzo sulle spine dopo il report degli Stati Uniti su Bin Salman. Per adesso il governo logora Partito Democratico e Grillini. Non si ferma la crisi del 5 Stelle. Altri addi, rabbia degli escusi dalla squadra del Premier, ritorno di Conte agitano il partito. Mentre i Dem si preparano a un congresso con il segretario bersagliato dal fuoco amico. Ministro Orlando, la vera emergenza rosa per ogni uomo rimasto senza lavoro, stessa sorte per due donne. Gianluca Baldini a pagina 19. Poi vediamo qui in basso, la destra sarà inferiore ma la sinistra la copia. Sandro Veronesi disprezza, Bernard Henry Levi compra, il regista Alessandro Dalatri col commissario Ricciardi vendi con genere snobbato. C'è spazio anche per parlare di fiction, il regista Alessandro Dalatri nel popolare commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Il nostro cinema è rifiorito, leggiamo. Libero, i grillini si polverizzano, Meloni invece si rafforza, piccola rivoluzione nella politica. Di Maio definisce Movimento 5 Stelle forza liberale e quel che resta del movimento gli spedisce un vaffa. L'opposizione fa bene a Giorgia, un passo dal PD nei sondaggi e sogni di arrivare prima. Zingaretti attacca il carroccio, i nemici veri però li ha nel suo partito. Andiamo a vedere con 9 sottosegretari leghisti Brodino ricostituente per Salvini al governo e poi è Gallina a covare il disastro sui vaccini, firma i contrattini per l'Unione Europea. Per quanto riguarda il discorso della Lega c'è polemica in Veneto perché sono stati ignorati i Veneti, i rappresentanti della cosiddetta Liga Veneta, che è la Lega per Salvini, il gruppo che fa parte, che fa riferimento a Luca Zaia, sono stati ignorati tutti per quanto riguarda un posto di sottosegretario. Vagna Gava, la nostra, il Friù di Venezia Giulia l'ha ottenuto, quelli del Veneto invece no. Così come anche nel PD perché lo stesso Partito Democratico ha ignorato i sottosegretari. C'erano alcuni sottosegretari veneti, erano in tre nel precedente governo, sono stati esclusi tutti e tre e dunque hanno perso, quelli del Partito Democratico, tre riferimenti del Veneto, tre Veneti, il Partito Democratico Veneto ha perso tre riferimenti nel governo centrale. e polemica da una parte e dall'altra dopo le nomine effettuate da Draghi, ma le nomine di Draghi sono semplicemente la cartina di tornasole di quello che è stato chiesto dai leader dei partiti per garantire l'appoggio. Ci sono stati ovviamente anche le nomine di ministri, infatti in questa direzione, al di là degli otto ministri tecnici che Draghi ha nominato, per i sottosegretari invece le nomine sono arrivate dai partiti, non certo da Draghi che ha dovuto soltanto firmare il decreto di nomina per i sottosegretari e in Veneto sono un po' tutti arrabbiati, sia quelli della Lega che quelli del Partito Democratico. Andiamo sul giornale per chiudere dalla segna con i quotidiani generalisti, poi passeremo al Sole 24 ore, il quotidiano economico-finanziario. Il giornale titola Fuori i vaccini, risalgono i contagi, Draghi sferza l'Europa inflessibili con le aziende in ritardo, Berlusconi produrli in Italia, Salvini e Zingaretti litigano sulla Pasqua, le chiusure di Pasqua fanno andare le ipotetiche possibili chiusure di Pasqua fanno andare su tutte le furie, Salvini, Zingaretti risponde, però attenzione non facciamo del populismo, in sostanza ha detto Zingaretti, se c'è da chiudere bisogna chiudere per evitare che poi si ritorni di nuovo al rischio di lockdown prolungato. Andiamo a leggere invece qui a destra le analisi sulla situazione politica, i grillini all'esercito dei finti liberali e poi ma adesso trema il partito manettaro nel grande salone di Palazzo Madama, scrive Augusto Minzolini, Massimiliano Romeo, capo dei senatori leghisti, si racconta l'area nuova che si respira in un settore estremamente sensibile come la giustizia, dopo l'arrivo del governo Draghi, negli ultimi mesi con Fida c'era stato un vero accanimento, quindi il partito manettaro, cioè i giustizialisti, tremano secondo Augusto Minzolini dopo l'arrivo del governo Draghi. Il sole 24 ore, l'apertura vaccini, Draghi lancia la linea dura dell'Unione Europea, il premier rigore contro le aziende inadempienti, possibile stop all'export. L'Unione Europea va verso l'adozione del passaporto sanitario entro l'estate, ripetiamo, questa è una cosa sicuramente positiva, ma bisogna però passare ad una disponibilità di vaccini sicuramente superiore se si vuole far passare il concetto del passaporto vaccinale. Giorgetti Farma Industria parte l'operazione per l'antitodo made in Italy, la Mantovana Solaris produce i bioreattori dello Sputnik, i bioreattori sono quelli che servirebbero in Italia per poter poi produrre, non ce ne sono tanti in Italia, non ci sono tante aziende in grado di poter produrre vaccini ad un ritmo necessario a coprire le mancanze delle case farmaceutiche. Nuovi contagi a quota 20.000, rischio chiusura per le scuole. Questo il sole 24 ore e dal sole 24 ore ci spostiamo adesso sui giornali locali. Cominciamo con il Gazzettino, abbiamo visto la prima pagina del quotidiano diretto da Roberto Papetti dove si parla di una sola dose ai contagiati per poter liberare 320.000 dosi da dare a chi non è stato colpito dal Covid e dunque immunizzare una parte di popolazione per raggiungere quella percentuale, una possibile del 70% per l'immunità di gregge. Trova in prima pagina spazio anche l'iniziativa dell'Udinese Calcio che vedremo poi più nel dettaglio all'interno. L'Udinese testa allo stadio il kit anticontagi. L'Udinese sperimenterà domenica la Dacia Arena un test per favorire la riapertura negli stadi in sicurezza, un'apparecchiatura che consentirà di monitorare il rispetto delle distanze. Un'apparecchiatura, un dispositivo che verrà consegnato a tutti coloro che entreranno alla Dacia Arena per questione di lavoro. Ovviamente domenica, visto che gli stadi sono chiusi, è una buona occasione per fare questo test e ci sarà una segnalazione quando due persone saranno a contatto al di sotto della distanza di sicurezza, cioè meno di un metro. Questo dato verrà inviato, a parte la segnalazione che riceveranno i diretti interessati da questo dispositivo, verrà inviato anche agli steward che avranno poi il tempo di andare da queste persone e richiamarle l'attenzione, separarle. Tutto questo nel tempo utile per evitare che il contatto tra due persone a meno di un metro, peggio ancora, senza la mascherina, si prolunghi per un quarto d'ora. Questo test verrà effettuato domenica alla Dacia Arena, noi saremo ovviamente pronti a documentarvi tutto nei nostri notiziari ed anche dalle nostre trasmissioni sportive, perché è sicuramente un test importante che sottolinea ancora una volta come l'Udinese sia una società innovativa e mette a disposizione il suo stadio per questo test, che potrebbe poi risultare utile come strumento per ipotizzare una riapertura, seppur a capienza limitata, degli stadi il prima possibile. Siamo ancora sulla prima pagina del Gazzettino. Come abbiamo visto, lo scandalo dei contributi ricevuti da Assessore e Vice Sindaco contro il contributo Covid, Treviso, l'Onorevole Salviniana, Fregolente e due colleghi ottengono il bonus comunale, Senatrice, Assessore e Vice Sindaco a tutto il contributo anti-Covid che ovviamente ha fatto scandalizzare un po' tutti. Qui siamo all'interno del Gazzettino che ci permette con la sua cartina dell'Italia colorata per fare una verifica di quella che è la situazione dei colori, che potrebbe essere questa dopo la giornata di oggi. Oggi c'è l'analisi dei dati da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e come vedete la nostra regione ed il Veneto dovrebbero rimanere in giallo. in arancione abbiamo la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Trentino Alto Adige, l'Abruzzo, la Campania ed il Molise. Le altre sono tutte gialle e poi tra il giallo e l'arancione ci sono la Puglia, la Basilicata, le Marche e la Lombardia e il Piemonte. Vedremo quello che succederà quest'oggi, ma intanto i dati che preoccupano sono questi, i numeri sono questi. 8 regioni che in base al monitoraggio hanno superato la soglia critica del 30% dei posti retto in terapia intensiva, 41 province che hanno registrato nell'ultima settimana incrementi di terapia intensiva superiore al 20% e 57% il tasso di occupazione dei posti retto in terapia intensiva registrati nei reparti Covid degli ospedali Umbri. Si tratta del dato più alto dell'intera penisola che pone l'Umbria a forte rischio di diventare rossa, probabilmente l'Umbria sarà rossa per questo motivo, tra il rosso e l'arancione. Vedremo poi quale sarà la fascia che verrà decisa. Ricordiamo che il parametro, il livello di allarme scatta già dopo il 30% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva con malati Covid. Qui siamo al 57% e quindi assolutamente grave la situazione. Chiusura a Pasqua, l'ite Salvini Zingaretti, la primavera grana per Palazzo Chigi, questa è la pagina nazionale. Sfogliamo ancora il gazzettino che parla anche di svolta su cinema e teatri, l'ok del Comitato Tecnico Scientifico per il 27 marzo. Si parla però di riaperture, con delle condizioni particolari naturalmente, ma prime riaperture soltanto per le zone gialle vaccini. Via libera la richiesta di Zaia per la dose unica ai guariti. Parere favorevole di AIFA alle indicazioni dell'Unione Europea. Speranza dice a breve la circolare. Il Governatore, così il Veneto risparmia 320 mila iniezioni. Lo si valuti per tutti, ovviamente, ma lo si valuti per tutti lo ritengo davvero superfluo come inciso. L'RT risale in Veneto, attenti perché a 1 scatta l'arancione, il rischio è che con l'1 si vada in arancione, appunto come ha detto Zaia, e il Veneto è intorno allo 0,95, 0,91, 0,95, il dato in questo momento della Regione Veneto, e poi la notizia dell'Udinese che testerà il dispositivo anticontagi, così potremo riaccogliere il pubblico. Un test molto importante che si svolgerà in occasione della partita tra Udinese e Fiorentina, continuando ancora sul gazzettino, si vale le summit europeo, e poi il nodo istruzione, insulti dei prof alla ragazza che chiede lezioni a giugno, interviene il Ministero. Alcuni insegnanti si sono lamentati, qui le inquietudini all'interno del Movimento 5 Stelle, poi ecco qui la notizia del caso sottosegretario di cui parlavo poco fa. Lega, rabbia e imbarazzo, Veneto ancora ignorato, ora subito il congresso, lo schiaffo di Salvini, nessun sottosegretario per la Regione che ha il maggior numero di elettori, da re dice paghiamogli in esperienza del nostro commissario, lo schiaffa al salviniano Bitonci, questa è la situazione, la Lombardia dove il partito ottiene meno consensi, si ritrova con 5 poltrone contro la solo Stefani. Da quest'altra parte invece c'è anche la disfatta del Partito Democratico, da 3 a 0 la disfatta Demme, la desertificazione del PD, il partito in Veneto è sparito dai posti di governo, sacrificato alle donne al sud, se non riconfermano Martella, Maretta e Variati vuol dire che siamo irrilevanti, ed è quello che è successo, dunque c'è polemica, e un po' di Maretta all'interno dei due partiti principali in Veneto, con la Dega che è di gran lunga il partito più votato. Qui siamo sulla pagina del Friuli, Regione in giallo, ma il virus corre, l'andamento dei contagi vede numeri in crescita, preoccupa poi la presenza della variante inglese. In Friuli Venezia Giulia l'ex caserma Cavarzerani torna in zona rossa Udine, la Lega teme risordini, il PD vuole chiarezza dalla giunta. E qui la Dacia Arena in tutto il suo splendore, vedete l'immagine dello stadio dell'Udinese, l'Udinese che farà il test per riaprire gli stadi, e lo farà domenica contro la Fiorentina, in occasione dell'organizzazione di questo match, domenica pomeriggio, in occasione di Unese Fiorentina, ci sarà anche un test tecnologico sul distanziamento, pensato in chiave di possibile riapertura degli stadi al pubblico, ma i bianconeri hanno i giocatori contati, questo però è un altro problema che andremo a verificare dopo, quando parleremo di sport, adesso ci spostiamo sul messaggero di Udine, per vedere la prima pagina, andiamo a vedere la pagina del quotidiano cittadino, crescono i contagi tra i bambini, ed è allerta per la variante inglese, sono spesso asintomatici, a rischio alla salute dei genitori e nonni, in regione individuata solo la mutazione inglese, aumento del 26%, l'ha detto ieri Riccardo Riccardi, e poi nasce in Friuli l'albero del futuro, che può raggiungere 30 metri d'altezza. Un po' di notizia di cronaca qui di spalla, storie di rider, chilometri in sella per 4 euro a consegna, e poi sfondano le porte della Cop per rubare cioccolato e caffè, la banda della spaccata torna in azione, in carne a calcio giovanile in lutto per la morte di Lieto Mazzolini, ed infine a Campoformido partiti i lavori di bonifica dell'area Romanello. Siamo invece all'interno, per andare a leggere la pagina della cronaca cittadina, dove si parla della caserma Osoppo, che ospiterà anche una sede dell'Istituto Malignani, e poi abbattuti 682 alberi piantati, 149 in meno in primavera, il saldo sarà positivo. Scalettaris del Partito Democratico dice ogni 5 giorni perdiamo una pianta in città, Michelini, moltiplicati i fondi per ogni taglio, previsti 3 innesti, quindi in primavera, secondo il Vice Sindaco, si arriverà ad un saldo positivo, ma intanto il saldo è negativo, perché 682 gli alberi abbattuti, 149 in meno quelli piantati. Andiamo avanti, adesso andiamo a vedere il messaggero di Pordenone, per l'annocchiata sia alla prima pagina, con eventuali titoli diversi, sicuramente di spalla la cronaca è diversa da quella di Udine, l'apertura invece è uguale, sia per quanto riguarda il titolo principale che la fotonotizia, mentre di spalla la cronaca è questa a Pordenone, non ci ha pagato, lo sgozziamo ed è paura in centro a Pordenone, poi in provincia a Sacile, incendio durante la notte, un'auto va distrutta, poi tagliano la rotonda, arrivano 40 multe, pioggia di proteste, e poi tavolata nel gazebo, bar di San Quirino chiuso per 5 giorni, violazioni alle norme di prevenzione per evitare la diffusione del Covid. La prima pagina della città, arrivati gli strumenti per i tamponi rapidi, che danno l'esito in un quarto d'ora, sono già utilizzati soprattutto nel pronto soccorso, manca però il collegamento col sistema informatico, qui invece di spalla, i locali notturni offrono gli spazi per i vaccini, ma chiedono attenzione, il settore penalizzato, che è quello dei locali notturni, dicono mettiamo a disposizione i nostri locali per le vaccinazioni, ma siamo uno dei settori più penalizzati, in pratica le aperture dei locali notturni si limitano a un mesetto, poco più nel periodo estivo, da allora tutti chiusi. Il piccolo edizione di Trieste, l'edizione della città, parla di variante inglese in un positivo su quattro, i contagi sono in risalita, più che raddoppiate le infezioni tra i bambini dai 3 ai 5 anni, attesa per oggi la conferma del fluido Venezia Giulia, in zona gialla, sotto la testata Illy Caffè, il socio Ron al 20%, piani di crescita previsti negli Stati Uniti e in Cina, e poi l'aceto balsamico di Lubiana allarma i produttori italiani, e questo è un problema di guerra sull'agroalimentare, sui prodotti della nostra terra. Ci spostiamo adesso sull'edizione invece di Gorizia e Monfalcone, l'altra edizione del piccolo, l'apertura è uguale, la variante inglese tiene banco, c'è invece la fotonotizia che riguarda Gorizia, partenza lanciata di Upim al posto di H&M. in questo periodo parlare anche di movimenti di natura commerciale, fa sicuramente bene. Vediamo la pagina della dorsale dedicata, l'apertura della dorsale dedicata al capoluogo dell'Isontino, carteggio Mattarella, Redaelli sul futuro, una città esempio per tutta l'Europa, le lettere del capo dello Stato e dell'arcivesco. Il Presidente della Repubblica insieme al presule, che lo invita a venire in visita a Gorizia, concordano sul modello indicato dalla Capitale della Cultura 2025 e la dioce si si avvicina a quella di Capodistria, parla anche Ziberna, rispalla Transalpina per l'incontro con Pahor, è il luogo ideale, piazza Transalpina, lo afferma il sindaco Rodolfo Ziberna, assieme al collega di Nova Gorizia, Clemen Miklavic, intendo invitare Sergio Mattarella a Gorizia per una vista alla città, che ci piacerebbe essere contestuale a quella del capo dello Stato sloveno, Pahor, lo afferma Ziberna, e parla di questo incontro che potrebbe avvenire con un successivo invito che starebbe per partire all'indirizzo della Presidenza della Repubblica Italiana. Andiamo sullo sport adesso, parliamo subito di Udinese con il messaggero Pierini, ex giocatore bianconero, è un doppio ex, parla della sfida di domenica, l'Udinese in linea con i suoi programmi, alla Fiorentina è mancato un progetto tecnico, qui invece al Friuli un progetto pilota per prevenire il contagio, anche il messaggero da spazio, l'iniziativa che vedrà l'Udinese in prima linea per testare questo dispositivo che permette di controllare, che venga rispettato il distanziamento tra le persone. Nella frenata di Deolofeo e la risalita di Machengo, i tre dubbi di Gotti, questo per quanto riguarda la formazione, ma per quanto riguarda queste notizie vi invito a seguire il nostro notiziario con tutti gli appuntamenti e le parentesi di natura calcistica e sportiva, il pomeriggio calcio, dove con il nostro occhio sul campo abbiamo sicuramente le informazioni più corrette e di prima mano per darvi le indicazioni sulle scelte di Gotti in vista delle partite, in questo caso della partita di domenica. Qui siamo sul basket Johnson, il leader umile al servizio dell'Apu, la squadra è tutto, intervista alla guardia Dominic Johnson, 33 anni, che è il vero trascinatore della squadra, dal Covid alle scuse ai compagni dopo un fallo tecnico, lo statunitense salta il gruppo e punta a vincere il torneo, si è sentita la sua assenza quando è stato fuori a causa del Covid, adesso l'Apu ha ripreso a viaggiare a gran ritmo, vuol vincere il campionato, Johnson il leader che vuol vincere il torneo e noi domenica saremo in diretta dal Carnera per seguire il derby con Verona a partire dalle 18, ma già durante studio e stadio, la trasmissione che condurrà Massimo Campazzo per seguire Odinese e Fiorentina, dalle 17 in poi ci saranno collegamenti dal palazzetto di Udine per le interviste pre-partita per avvicinarci alla palla 2 delle 18 e poi ci sarà la telecronaca integrale del match in esclusiva. Su Udinesi TV lasciamo il piccolo, andiamo a vedere adesso il Corriere del Veneto con la parte sportiva che riguarda Roberto Baggio, riprese finite, Vicenza cancellata, sono polemiche per il film dedicato a Roberto Baggio, fondi solo dal Trentino, il regista e il suo campetto non esiste più, in effetti il campetto dove Baggio si allenava e tirava i primi calci a Caldogno non c'è più, non esiste più, è stato sostituito da Erbacce e quindi non si sa se lo si potrà utilizzare per fare qualcosa, ma a quanto pare le riprese sono finite e la città di Vicenza, che è la città che ha dato i Natali a Baggio, anche dal punto di vista calcistico, visto che ha giocato nell'Anerossi Vicenza all'inizio della sua carriera, è stata cancellata dalle riprese per il film che racconta la vita del grande campione Roberto Baggio. Per quanto riguarda lo sport dobbiamo andare anche sul Gazzettino a leggere le pagine che si occupano di questo. La tecnologia di Restart punta a riaprire gli stadi, la pagina dedicata all'Udinese parte con questa iniziativa del test alla Dacia Arena, il Gazzettino ci ricorda anche che in prima serata Udinese TV sarà con Giorgia Bortolossi alle 21 per Mondo Chef con la partecipazione di Tito Piazza, Gunnar Cautero, Anna Rita Zanier, Gianni Ceschi e Paolo Bergamasco. Sono i protagonisti di questa puntata di Mondo Chef che sta avendo grande successo in TV ma anche in streaming. Grandi numeri arrivano anche dalla visione digitale di questo programma che cattura l'attenzione in tutto il mondo visto che ci sono chef del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, protagonisti, gli chef emigranti, così li abbiamo definiti e come di fatto sono, che hanno fatto fortuna all'estero. Questa è la pagina dedicata all'Udinese con i titoli sulla iniziativa Restart. Andiamo a vedere anche il resto. Uomini contati di fronte ai Viola. Qui l'immagine di Gerard Eulofeo che non ci sarà nell'elenco degli acciaccati Iaglialo, Palumbo, Pereira, Pussetto, Forestieri, Eulofeo, Oweian e Ziegler. Si è aggiunto Oweian con un problema al piede che probabilmente gli impedirà di essere in campo. Poteva essere la sua chance visto che c'è l'infortunio di Marvin, la squalifica di Marvin Ziegler. Dunque non ci sarà la possibilità probabilmente per lui giocare al titolare così come non giocherà al titolare Eulofeo. Qui invece c'è Nestorowski che potrebbe giocare dal primo minuto insieme ad Okaka con un turno di riposo per Llorente. Continuiamo la rassegna con la Gazzetta dello Sport sempre per quanto riguarda le pagine sportive. Andiamo a vedere la pagina dedicata all'Udinese che traccia il profilo di Samir indispensabile per l'Udinese con lui Gotti rialza il muro e il giocatore più utilizzato a Ropo de Poli il tecnico punta sul suo ritorno per fermare Riberi e poi dietro ci sono Nuitink Becao e Bonifazi altri tre calciatori che hanno avuto un rendimento alterno per vari motivi Nuitink è stato parliamo di rendimento alterno perché è stato anche fuori per infortunio per molto tempo Becao ha avuto degli alti e bassi con degli errori ma anche delle grandi e delle buone prestazioni Bonifazi idem ha fatto tutto molto bene poi l'ultima partita quella in cui ha dovuto sostituire all'improvviso Samir che ha accusato un piccolo problema muscolare che l'ha tolto di mezzo nell'ultima gara lo ha sostituito con qualche con qualche errore gara poi ripresa per i capelli dall'Udinese ma si poteva probabilmente fare fare meglio a Parma e poi c'è anche De Maio che è stato utilizzato meno finora in questa stagione ma rappresenta pur sempre una valida alternativa a quelli che Gotti ritiene essere i giocatori in questo momento che gli danno maggior affidamento e cioè Nuiti e Samir sicuramente poi Becao Bonifazi che si alternano nello giocare insieme agli altri due chiaramente quanto c'è in disponibilità le scelte sono obbligate vediamo le prime pagine siamo su quella della gazzetta Gigio la buona stella ieri giornata di Europa League il Napoli fuori la Roma e il Milan vanno avanti che fatica con la stella rossa ma basta il pari grazie a Donnarumma oggi alle 13 il sorteggio i dischi United Arsenal Tottenham Ajax e Derby Italiano qui c'è Ibrahimovic a Sanremo Ibra guiderà un super team reportage verso il festival con lui Mijailovic Tomba Schwarzer e Fede Pellegrini poi Roma sì la Roma passa Dzeko segna ma si ferma domenica fuori Dzeko diventa il giocatore con 29 gol in Europa che ha fatto più gol in Europa con la maglia della Roma superando anche Francesco Totti Napoli no Gattuso si prende la colpa subito un altro gol da Polli non basta la vittoria contro il Granada 2-1 all'andata gli spagnoli si erano imposti per 2-0 dunque passa il Granada va avanti il Napoli si ferma adesso deve soltanto concentrarsi può soltanto concentrarsi per evitare di perdere l'Europa nella prossima stagione e quindi provare a conquistare la Champions cosa non facile vista la forte concorrenza che c'è le altre prime pagine sono quelle del Tutto Sport e del Corriere dello Sport il Tutto Sport titola sulla Juventus sotto la testata McKennie riscatto e poi si parla di un contatto tra il Napoli e Sarri la Juve ha deciso pagherà i 18,5 milioni più bonus per il cartellino di Winston eliminato dall'Europa DL pensa al grande ex per la prossima stagione Juve-Napoli si gioca il 17 marzo l'andata della gara di ritorno che già si è giocata il ritorno si è giocato a Napoli poche settimane fa con il Napoli che ha vinto contro la Juventus 1-0 ci sarà il ritorno il 17 di marzo poi Europa League ringhio fuori con rabbia Milan e Roma avanti e poi Inter e Torino per l'Inter ore sul filo Suning cambia padrone vicino alla cessione del club Covid positivi in 5 ci sono anche Antonello Ausidio e Marotta da quest'altra parte invece Toro ore da incubo con il Sassuolo si gioca il 17 marzo anche in questo caso un recupero che è quello della partita che salta a causa del Covid che ha colpito il gruppo squadra Granata in maniera considerevole la variante inglese nel Focoleo Granata a rischio la gara con la Lazio oltre che quella con il Sassuolo Schvázer a Sanremo quella con il Sassuolo già è saltata quella con la Lazio è a forte rischio Schvázer a Sanremo la verità canta con Ibra Mialwich Federica Pellegrini e Tomba ci sarà anche il marciatore che è stato scagionato dalla procura del Trentino Alto Adige per aver commesso reati riguardo un controllo doping nella sua seconda vita da atleta quella che gli aveva permesso di riprovare a tornare in pista e c'è stato lo scandalo a quanto pare delle provette alterate Corriere dello Sport Roma, Milan e Giacalda vanno agli ottavi di Europa League domenica sera e sfida Champions Fonseca senza Patemi passa col Braga vincendo 3 a 1 Rossoneri pari col Brivido Napoli è troppo tardi il 2 a 1 con il Granada non basta per passare e chiudiamo qui la nostra rassegna stampa ma lo facciamo prima andando un'occhiata ai programmi di oggi andiamo a vedere cosa propone oggi Udinese TV i notiziari in diretta come vedete contrassegnati dalla scritta in rosso diretta tutta la giornata fino a questa sera alle 22 e 30 e poi oggi benvenuti al Bar Giggia alle 19 e 30 e poi alle 21 Mondo Chef questi programmi di oggi ed ecco qui Giorgia Bortolossi che presenta il suo programma e non dalle 21 con gli chef protagonisti oggi Tito Piazza Gunnar Cautero Anna Rita Zanier Gianni Ceschia e Paolo Bergamasco conduce Giorgia Bortolossi questa sera alle ore 21 è tutta la parte mia ci vediamo alle 10 con il TG News 24 prima edizione live del nostro notiziario arrivederci